Bentornati ragazzi su Altmate, sono Fabri e oggi in questo nuovo episodio andremo a vedere qualcosa di davvero unico e spettacolare ovvero l'eruzione dell'Etna. Io sto a Catania quindi a due passi da casa mia andiamo subito a vedere queste spettacolari immagini fatte ovviamente in esclusiva per voi subito dopo la sigla. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto. L'Etna è sempre uno spettacolo vederla ogni volta che è rutta. Vi ricordo di iscrivervi al canale gratis, di attivare la campanellina per non perdere le ultime uscite video e ci vediamo presto al prossimo episodio.